Allora andiamo a guardare come creare delle API sul nostro back-end App Engine senza praticamente scrivere del codice ma scrivere soltanto delle annotazioni. Come vi dicevo prima, l'utilizzo di App Engine potrebbe anche essere soltanto per realizzare un back-end, quindi poi il vostro front-end può andare sul mobile, può andare su una web application magari sviluppata da altri, non per forza integrata, con tutto il meccanismo che abbiamo visto prima. E i cloud endpoints sono quel punto di comunicazione, point of contact, tra il vostro back-end ed il mondo esterno. Non mi presento perché tanto sono sempre io, non avete visto stamattina. Sostanzialmente abbiamo qui, abbiamo il nostro back-end, tramite cloud endpoints generiamo tutta una serie di codici, perché sostanzialmente i cloud endpoints è un tool che basandosi su delle annotations genera tutta una serie di parti di codice. E ci permette di avere delle RESTful API che poi possono essere usate da Android, quindi abbiamo già del codice nativo Android generato, abbiamo del codice per iOS, e abbiamo anche un impostato, cioè viene anche creato il Google App Engine, il back-end viene modificato per poter poi essere acceduto dalla libreria alle Google API su JavaScript, in modo tale poi ad accedere ai servizi del vostro back-end, come magari accedete già ai servizi Google, non so, calendar, mail o altro, quindi con lo stesso standard. Cloud endpoints può essere utilizzato a tanti livelli, potete semplicemente esporre delle API in maniera pubblica, potete richiedere un'autorizzazione e un'autenticazione OH2 per poter accedere, potete blindare l'accesso alle vostre API soltanto a determinate applicazioni oppure utenti. Quindi, come dire, ci sono molte opzioni, sta a voi scegliere quella che più vi interessa implementare in base alle vostre esigenze, ok? Anche qui, seguendo la filosofia di questa mattina, invece di implementare io qualche cosa che poi rimane soltanto per la conf, preferisco eseguire un esempio che già esiste, su cui comunque c'è già un bel po' di lavoro dietro, e focalizzarmi proprio sulla parte dei cloud endpoints. Questo esempio si chiama Namekeeper, è un sistemino per gestire dei piccoli biglietti da visita, contatti, eccetera. Ci sono tutta una serie di pattern molto carini implementati al suo interno, non è un esempio ufficiale Google come quelli che vi ho fatto vedere stamattina, è un esempio di un ragazzo di un Google Developers Group, comunque non è tra virgolette ufficiale Google, però è lo stesso buono, quindi il consiglio è di dargli una guardata, e tra questi pattern implementati c'è anche l'utilizzo dei cloud endpoints. Al solito qui su GitHub ho già scaricato tutto. Come funzionano i cloud endpoints? Come dicevamo, non dovete scrivere codice aggiuntivo, dovete soltanto annotare delle classi già esistenti. Queste annotazioni possono essere emesse sia a livello di classe che a livello di metodo della classe, quindi poi i metodi che avete, semplicemente dite questo metodo espone, cioè da questo metodo generami un API. Cosa succede? Che voi magari non avete strutturato la vostra applicazione, cioè per poter poi avere delle classi che espongono, eccetera, ma magari soltanto per l'utilizzo interno, così. Potete anche creare delle classi wrapper attorno al vostro codice, quindi un po' di codice lo scrivete lo stesso, e poi applicare queste annotazioni sulle vostre classi wrapper. Poi comunque andremo a vedere come fare. Però ecco, cloud endpoints sono delle annotazioni. Tutto il codice in più che scrivete magari serve per adattare la vostra infrastruttura ad essere esportata e, diciamo, aperta al mondo come RESTful API. Come facciamo a generare questo codice? Dopo aver messo le annotazioni, vi ricordate questo è il plugin, quello di Google per Eclipse che abbiamo visto prima, Generate Cloud Endpoint Client Library. Questa automaticamente viene preso un po' di codice, viene analizzato, vengono create le configurazioni per App Engine, viene creato il codice per Android. Anche questo tool qui è disponibile da linea di comando, quindi su Eclipse è comodo perché due clic e ci siete arrivati, però comunque potete tranquillamente integrarlo nel vostro sistema di build, senza nessun problema. E in più abbiamo anche un Explorer per le vostre API generate. Quindi, se già lo conoscete, l'API Explorer è un tool che Google mette a disposizione per andare a esaminare le API di tutti i servizi che, diciamo, sono aperti al mondo, lo stesso tool può essere utilizzato anche per analizzare le API che voi avete creato. Quindi, se avete già familiarità con questo tool o con le Google API, sostanzialmente i Cloud Endpoints generano delle Google API-like API. Finalmente, andiamo a vedere il codice. Allora, qui ho ancora aperto il progetto di prima, un attimo solo. Qui ho scaricato il Namekeeper, l'ho installato, brevissimo overview sul programma. Eccolo qui, l'ho anche messo sulla console. Ok. Non è che faccia, di base non è che faccia molto. Qui sta inizializzando tutta una serie di cosettine, eccetera. Ho già fatto il deploy del progetto sulla console, quindi poi lo vedremo sia deployato che comunque locale. Senza concentrarci sulla logica dell'applicazione, quindi capire come fa quello che non fa, c'è un'unica classe che si chiama Business Card Endpoint. Questa classe, come vi dicevo, è stata creata ad arte per poter esportare dei servizi all'esterno. Se andiamo a vedere l'outline, abbiamo list business card, get business card, con un long, quindi con un ID della business card, insert, update e remove. Ok. Sull'insert ovviamente c'è un oggetto business card, sull'update abbiamo un altro oggetto business card, e sul remove abbiamo l'ID della nostra business card che vogliamo rimuovere. Come potete vedere, questa struttura è molto molto simile al pattern del Data Access Object, del DAO. Quindi voi potreste già avere i vostri DAO e volendoli decorate con questi attributi dei Cloud Endpoints. Oppure crearvi delle classi apposta che wrappano i vostri DAO perché magari sono tutti insedi su una struttura particolare e poi applicare lì le cose. Allora, andiamo a vedere velocemente come fare. Allora, la prima cosa da fare è decorare la classe. Allora, visto che la documentazione è sempre nostra amica, anche se non sempre lo sappiamo, andiamo a prendere, eccola qui, tutta la documentazione dei Cloud Endpoints, che ci spiegano elemento per elemento, magari lo ingrandisco un po', a che servono tutte le annotations. Quindi abbiamo un'annotazione, diciamo, di primo livello, che si mette sulla classe, che serve per dire che questa classe qui genererà delle API. Ok? Considerate una cosa, i Cloud Endpoints sono molto flessibili, nel senso che hanno molti parametri. Voi potete specificarne alcuni, oppure lasciare i default. I default poi vengono inferiti, inferiti, sì, inferiti, 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 dal nome della classe, dal nome del metodo, da come è gestita quella classe, quindi avete un altissimo livello di customizzazione, però anche un altissimo livello di configurazioni automatiche. Sta un po' a voi scegliere. Ovviamente, se fate delle classi ad hoc per creare delle RESTful API, magari già nella definizione della classe, quindi soltanto proprio nel codice che scrivete, potreste mettere già i nomi fatti bene, tutte le cose come vi interessano. Se invece state prendendo delle classi già esistenti e volete un attimo aggiustarle per questo tip, per creare queste API, allora forse ha senso molto di più usare questi parametri. Ancora una volta sta a voi scegliere la soluzione migliore in base al vostro contesto. Quindi, gli dico che questa classe qui, Business Card Endpoint, verrà esportata con il nome Business Card e questo qui darà, come dire, la radice di tutto l'albero di API che poi verranno generate sotto alla versione V1, che è la versione default che viene presa, quindi io potrei anche generare API versione 1, versione 2, versione 3, con lo stesso nome, questo poi farà tutto parte del pattern dell'URL per accedere alle API, quindi uno potrebbe dire, ok, queste sono le API vecchie, queste sono le API nuove, questa è la classe che generano le vecchie, questa è la classe che generano le nuove, mantenerle insieme senza poi dover restare a fare grossi giuri di codice. E poi qui c'è una descrizione abbastanza semplice, sample API. Vediamo, questo è questo metodo list, quindi il più classico dei metodi list, dove io voglio la lista di tutti i miei elementi. Nel caso specifico, qui posso anche passare un cursore, posso passare anche un limite, quindi posso ottenere una lista paginata a partire da un certo elemento. Qui c'è tutto il codice, che va a prendere i dati nel datastore, c'è il persistence manager, quindi come vi dicevo, tutta una serie di pattern interessanti da guardare, anche per capire un po' come funziona App Engine, però quello che gli faccio, quello che faccio è, qui la notazione è API, qui sotto invece è API method, dove gli dico name list, quindi questa API generata, cioè verrà elencata nell'elenco business card, che è l'API principale, punto list. Sarà accedibile all'URL slash list, quindi quando voi chiamate la vostra applicazione slash list verrà chiamata questa API, e vuole un metodo get. Ok? Chiaro fino a qui? Abbastanza semplice. Poi, queste due annotation qui, named e nullable, servono per customizzare i parametri della mia API. Qui gli sto dicendo, potrei, quindi con il nullable è un potrei, avere un parametro che si chiama cursor, scusate, cursor, e potrei, quindi un altro nullable, avere un parametro che si chiama limit. nella chiamata della mia API. E state mappando i parametri che arrivano con il parametro del vostro metodo. Quindi col name e con path mappate URL metodo. Con eventualmente nullable e named mappate parametri del metodo, parametri dell'API. se non mettete niente, lui si aspetta, l'API si aspetta un parametro di nome cursor string. Ok? Quindi, anche se uno dice, oh ma io internamente ho le mie convenzioni per i nomi, però quando le voglio esporre al mondo esterno, queste convenzioni non vanno bene, nessun problema. Rinominate, fate una specie di refactor on the fly, e avete convenzioni interne e convenzioni esterne per le naming convention. E poi il vostro metodo farà quello che deve fare, né più né meno. In maniera molto simile, possiamo andare a vedere il metodo leggi, quindi il read cosa si aspetta. In genere voi, nella definizione del restful, passate anche l'oggetto e il suo id. Quindi mettete read, che sarà il nome della vostra API, un metodo get, e il path questa volta, mentre sopra era semplicemente slash list, qui sarà business card slash id. E l'id lo mappate con il parametro del metodo. Ok? Direi niente di complicato fin qui. Stessa cosa lo facciamo per il create, il create è un post, quindi questa volta non utilizzate il get, ma utilizzate il post. Il path è business card, quindi voi passate a business card un post con tutti i valori del vostro oggetto. E infatti poi qui si aspetta un oggetto business card. Per l'update, ovviamente utilizziamo il put. Abbiamo anche qui business card id e abbiamo il nome update. Quindi, quattro, cinque righe di codice, di cui, cioè cinque righe di decorator sulla nostra classe, ah, scusate, sei perché abbiamo anche il remove. Il remove anche qui è un delete e anche qui è business card id. Ok? Quindi queste cinque righe e siamo pronti per generare le nostre API. Come facciamo a generarle? Vi dicevo che andiamo sul progetto, clicc'è destro. Abbiamo Google. Eccolo qui. Generate cloud endpoint client library. Lui adesso prende, va a analizzare tutto il codice, cerca tutte le annotazioni, bla, 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 bla. Avete bisogno della connessione a internet per fare questa cosa qui, perché lui scarica, non so bene cosa scarica, però comunque va a controllare un po' la connessione e dopo ha dei timeout lunghi. E ha creato una serie di file. Il primo è questa cartella qui, la faccio vedere, che è endpoint libs, che sono tutti i codici necessari per utilizzare le nostre API da Android, o comunque per definire le nostre API. Quindi, non è codice del vostro progetto, ma è codice autogenerato che voi poi potete, come vedremo, attaccare su un altro progetto. E poi, all'interno del nostro Word, il plugin tiene aggiornato questo file, ah, ok, questo file importantissimo, cioè questi tre file, REST, RPC, e questo qui. Allora, come vedete, business card, trattino v1, è la notation API che avevamo messo qui. Ok? Uno, due. E poi qui, con il suo linguaggio, scrive tutta una serie di cose che definiscono le vostre API, che però sono abbastanza facili da leggere. Vi dice dov'è la root per accedere ai vostri API. Vi ricordate prima quando, per esempio, nella root avevamo il cronjob, piuttosto che i task, eccetera, quindi questa è la root. Anche qui, è una convenzione. Se voi volete, potete cambiarla, perché magari la vostra applicazione è deployata a altri path, eccetera. Questa è la description, quella che abbiamo sempre messo nella notation API. abbiamo, vabbè, una serie poi di altri nomi, deadline, eccetera, eccetera, eccetera. Se andiamo poi in alt, cioè continuiamo, abbiamo un'altra API, create, metodo post, path, business card, qui ci sono tutti gli altri parametri, che sono quelli delle nostre API, che però non abbiamo definito. Perché se torniamo alla guida, come vi dicevo, abbiamo parecchi altri parametri. Vedete, soltanto le API, noi ne abbiamo specificati tre. qui ce ne sono almeno una dozzina, che vi permettono di dire, per esempio, quest'API qui deve essere solo acceduta da determinate applicazioni Android, piuttosto che deve essere comunque acceduta da un utente autenticato, cose del genere. E qui vengono definite tutte le vostre API, quindi al limite, se uno dice, ok, io non voglio andare a cercare nel codice tutte le annotazioni, prendete tutti questi file autogenerati e cercate un po' di capire com'è e com'è non è. Fatto questo, se voi deployate la vostra applicazione, quindi fate il deploy, le vostre API sono pronte per essere utilizzate. Come faccio a saperlo? Andiamo a utilizzare l'Explorer, l'API Explorer, nel nostro programma. Allora, qui, ok, questo è l'url praticamente da ricordarsi. vado qui sul mio progetto, namekeeper test, quindi quello che io ho fatto, se ci attacco questo pezzo di url e do invio, vengo rediretto, vedete che, no, non lo vedete effettivamente, vedete che l'indirizzo è cambiato, quindi vengo rediretto all'API console puntando al mio progetto. Ok? Allora, io ho dovuto fare il deploy per avere 100%, la funzionalità al 100% dell'API console. Volendo, potreste anche farlo sul vostro progetto deployato in locale, sul server locale, però ovviamente riuscite a vedere un po' meno cosettine. Comunque è possibile farlo lo stesso. L'indirizzo è lo stesso, invece di mettere namekeeper test, mettete localhost, 2.8888, o la porta che avete definito voi, eccetera. E posso vedere che già qui ho business card API versione 1 sample API, quelle un po' che ho definito prima. Clicco dentro, guardate un po' la lista, e la cosa interessante è che se io clicco qui, ho la possibilità di chiamare e di utilizzare la mia API, quindi vederla subito come funziona. Poi, se siete dei ninja della riga di comando, io non lo sono, però volendo potete già utilizzare, ok, qui non si vede, adesso lo farò vedere. eccolo qua, per esempio Carl, ok, quindi potete mettere leader, potete mettere che tipo di API, potete mettere l'indirizzo, potete mettere il contenuto, insomma, vi potete anche sbizzarrire se volete fare dei test magari per vedere se tutto funziona, iniziate a mettere questi comandi a manetta e verificate tutta la vostra struttura se rimane coerente dopo ogni deploy. Anche qui, come vi dicevo, è uno strumento standard, non è niente che Google si è inventata, sono restful API, quindi tutto quello che avete già a disposizione potete riutilizzarlo anche con quello che avete fatto. Torniamo qui da noi, questa volta, giusto per completezza, invece di fare namekeeper test che è la mia applicazione, utilizzo namekeeper che è un'istanza di prova un attimo di questa applicazione qui, ok, quindi già funziona, mi aspetto di trovarsi già dei dati, se faccio un execute, ci vorrà un po' di tempo, però qui mi tirerà fuori la lista di tutti i contatti che ci sono, ok? Quanti di voi hanno mai, cioè hanno già utilizzato l'API Explorer? No dai ragazzi, alzate un po' le mani, ok. E vabbè, comunque è uno strumento, ecco, forse, eccolo qui, vedete? Questi sono già tutti gli dati in contenuti, questa è la risposta, JSON, che mi ritorna dall'API, quindi voi qui potete andare a vedere, potete andare a fare debug, quindi, a prescindere dall'utilizzo dell'API di Google o dal RESTful API, questo qui è uno strumento molto utile, perché qui potete mettere qualunque stringa volete, per fare analisi di quello che i web service delle altre API, RESTful, vi ritornano, quindi, come dire, dritta aggiuntiva, avete conosciuto uno strumento nuovo, oppure, volendo, tornate qui, volete fare un create, qui, la cosa carina, è che potete specificare tutte le varie proprietà, quindi, attraverso il meccanismo di discovery, viene letto quali sono i field che ci si aspetta dalla nostra classe, io potrei mettere latitudine 100, 1000, longitudine 2005, metto questo numero incredibile, metto name e metto test card, a questo punto la eseguo e guardate un po', questa è la mia post, quindi, volendo poi, questo codice potete anche metterlo nella vostra suite di test, che così almeno non dovete poi stare ammattivi a pensarlo voi, e questo qui è 200 ok e questa è la risposta che mi viene dal server, quindi poi anche qui nella vostra suite di test potete dire ok, confrontami se con questa chiamata ritorno sempre questo risultato, ovviamente poi dovete filtrare qualcosa perché magari l'id cambierà, poi questo vabbè, dipende dalla soluzione che avete implementato, però qui ho tutta la mia card, quindi se io vado a prendere questo id, poi torno qui, vado a fare una read, gli passo questo id che vedete che questa volta non è stato definito come nullable, quindi devo per forza passarlo, vabbè, forse si vede poco, però è anche in rosso, ok, faccio un bel execute e io qui trovo la mia response che è l'oggetto che ho appena creato, ok? Domande su questa parte qui? C'era qualcosa, aspetta, vi fate girare i microfoni oppure magari me la dici e poi la ripeto io. Allora, che io sappia no, personalmente gli darei l'url della console, cioè dico allora, guarda, vuoi vedere quali sono le, eh, questo è l'url da andare e gli apri l'API Explorer su quelle console lì, perché poi come abbiamo visto è il metodo, cioè magari non è il metodo più facile, però per uno sviluppatore secondo me è molto utile andare a vedere innanzitutto quali sono i campi richiesti, quali no, gli date magari, fate un deploy su un'istanza con dei dati di prova e avete pieno controllo, cioè date pieno controllo di quello che uno poi ci può sperimentare sopra. Allora, non ho mai provato, essendo a Notation, ah scusate, la domanda, avete ragione, hai già fatto, hai già annotato alcune classi con le Jax RS, quindi chiedeva se erano compatibili oppure no, se si incartavano tra loro. Essendo a Notation e essendo poi una generazione del codice a posteriori, non mi aspetto che ci siano problemi, però tutti conosciamo Murphy e quindi direi facciamo una prova prima di dire che problemi non ce ne sono. Allora, ripeto la domanda, dice, per esempio nel Create io ripasso l'oggetto User oppure Business Card. Come faccio a definire se alcuni campi devono essere di default, cioè devono essere presenti, sono opzionali oppure no? Allora, io ti direi che non lo puoi fare con questo tipo di API perché tu puoi dichiarare nullable soltanto un parametro, però se hai bisogno di queste cose ti fai un metodo che richiede tutti i parametri e poi lì metti le singole annotazioni nullable oppure no. Anche qui, essendo poi API puoi fare un po', cioè dipende molto, sono molto flessibili, dipende da quello che devi fare tu. Oppure il tuo metodo controlla l'oggetto che gli arriva e poi magari ti ritorna un'eccezione se non ha tutti i parametri che si aspetta. Dipende un po' da te. Altre domande? Ok. Abbiamo detto però che queste sono classiche che potete utilizzare. Se andate a vedere nel codice, quindi il nostro back-end adesso esporta qualche cosa al resto del mondo. Al resto del mondo perché è tutto pubblico. Come vi dicevo, una cosa molto carina ovviamente è integrata solo con Android però voi potete dire sapete che quanti di voi sviluppano in Android? Ok. Comunque voi create un package name è il package, cioè è l'identificativo della nostra applicazione che deve essere univoco in tutto il mondo praticamente. Che succede? Che voi potete dire che questa API può essere acceduta solo da un'applicazione che ha questo package name, che ha questo ID. Quindi automaticamente il sistema, dovete poi ovviamente mettere anche qualche altra cosettina però automaticamente il sistema fa accedere quell'API soltanto a quell'applicazione. Quindi potete dire io faccio un'API pubblica diciamo disponibile a tutti che però viene acceduta solo dalla mia app senza dover mettere all'interno dell'API stessa codice di controllo, meccanismi particolari che devono andare. C'è nei client che tu metti un client che è l'explorer. Quindi tu devi ricordarti c'è anche scritto guarda qui proprio no mi sono vabbè ho perso il coso ecco eccole c'è anche scritto qui come fare eccolo qui qui c'è scritto se vuoi che l'explorer acceda alla tua API che è soltanto blindata a certe app devi mettere anche come ID dell'app questo qui che è l'explorer quindi riesci a fare lo stesso. e andiamo a vedere come fare queste cose su Android vai se vuoi andare disponibile ad un altro tipo di client dipende puoi cambiare il codice rifare il deploy e la tua API adesso è aperta a un altro client tu per esempio che ne so hai fatto delle API e parti con un'applicazione poi dici sì comunque adesso ho una nuova applicazione fatta da me semplicemente aggiungi l'annotation aggiungi l'application ID nell'annotation rigeneri le API rifai il deploy e ecco che è disponibile anche per la nuova applicazione questo qui è una cosa allora chiedeva se il fatto che poi è autenticato lo vuole rendere disponibile anche altri device eccetera questa è una cosa che viene automatica e a costo praticamente metti la stringa solo per Android ok per altri device devi inventarti altri meccanismi per esempio puoi utilizzare la user authentication e dici ok questa API è accedibile solo se è autenticata e poi tu nella tua API controlli subito qual è lo user che la sta accedendo quindi magari però non è così proprio super snappy come è quella per Android allora dicevamo che quando abbiamo creato quando abbiamo creato la nostra libreria è stata anche creata una cartella endpoint libs se io vado a vedere quello che c'è dentro riuscite a vedere in fondo si vede bene o lo ingrandisco ok ingrandisco così si vede bene ok e viene creata questa lib business card versione 1 prendendo lib che è standard business card che è il nome dell'API versione 1 che è la versione business card e qui dentro ci sono tutta una serie di cosettine interessanti da leggere e da capire per sapere poi come integrare questa libreria nella nostra Android application sostanzialmente quello che viene fatto è vedete questa è proprio c'è anche un pom comunque viene creata tutta la struttura che serve questo viene proprio questo com viene proprio preso e copiato all'interno della cartella source di Android pari pari e qui quindi vengono aggiunte delle classi come vedete sono business card eccetera poi qui è una cosa ve lo dico che è importante da leggere ci sono anche tutte le librerie che devono essere incluse nel vostro progetto per poterlo far funzionare perché capite che queste API vi danno già tutto lo strato di comunicazione per accedere questo codice vi danno già tutto lo strato di comunicazione per accedere le vostre API quindi non vi dovete curare di mettere un network manager di capire la gestione degli errori eccetera è tutto già pronto infatti poi se guardate c'è parecchio codice in questi filettini generati però ovviamente utilizzo una serie di pattern che Google ha deciso di utilizzarli così se voi volete potete cambiarli non è un problema però è sempre il discorso poco sforzo configurazioni cioè poco sforzo dei default che più o meno vanno bene e poi io il codice se lo genero poi ovviamente il codice è lì e puoi fare quello che vuoi ci sono quindi tutte le librerie che potenzialmente possono essere utilizzate andate nel file readme.xml e andate a leggere magari in maniera un po' meno nerd direttamente il sorgente del file quelle che sono le dipendenze per deployare cioè per utilizzare queste API in generale quelle che sono le dipendenze soltanto per Android così almeno quando voi andate a creare la vostra applicazione Android vedete io quindi ne ho creato un'applicazione di prova in source ho copiato quella cartellina generata in lib ho messo tutte le librerie che lui mi raccomandava che ne sono abbastanza tranne questa qui che la support e tutto il resto sono così e poi adesso c'è un errore perché l'ho fatto poco fa anche perché sto andando un po' fuori tempo quindi è una cosa extra che vi sto facendo vedere comunque sostanzialmente il codice da chiamare per accedere alle vostre API io l'ho messo dentro una sync task quindi una chiamata che viene fatta in background faccio semplicemente allora creo business card che è il mio oggettone che riprende il nome dalla notation che vi ho messo sull'API gli passo un transport e una factory per fare il code l'encode e il decode del JSON perché voi potete usare JSON piuttosto che Jackson oppure altri serializzatori e parser che volete voi il transport lui utilizza un transport standard che è quello Android HTTP però anche qui potete utilizzare magari un transport vostro che scegliete in base alle vostre esigenze create un nuovo oggetto business card dopo da qui per per esempio ottenere la lista lo chiamate punto list che se vi ricordate questo punto list è l'annotazione API annotation che abbiamo messo sul metodo della classe e vi fate un execute oltre al punto list ovviamente abbiamo anche il create e gli passo un oggetto business card abbiamo un list read remove che sono quelle quattro che abbiamo ah scusate sono piccoline è vero diciamo che abbiamo un remove un read un list e un create ok che sono praticamente quelle quattro che abbiamo definito prima quindi voi avete già del codice pronto che con veramente tre righe di codice avete la lista per esempio delle vostre API l'unica cosa quando copiate la classe che c'è effettivamente da modificare è una e una soltanto che è nell'oggetto business card questo qui default root URL ecco qui che vi dice praticamente dove andare a prendere le vostre API ovviamente questa cosa qui adesso è una costante però voi siete liberi di implementarla come meglio credete quindi le prendete dalle vostre configurazioni non lo so fate voi comunque è l'unico parametro da cambiare una volta che copiate il source fatto questo siete a posto e con tre righe di codice chiamate le vostre API c'erano delle domande velocissime che siamo già un po' fuori tempo vai queste librerie allora questa parte che ti ho fatto vedere io è per Java quindi necessita di un back end di un scusa di un progetto in App Engine Java però comunque ci sono per Python ieri hanno fatto un video sulla Google Developer Live con i Cloud End Points per Go e penso che a breve che poi tra l'altro è stato anche un ragazzo italiano che gli ha dato una mano a svilupparle per Go quindi un po' di orgoglio nazionale fa sempre bene e penso che a breve penso che nella roadmap ci sia anche quello di metterle per Python Python l'hanno rilasciato adesso quindi come tutti i vari runtime per App Engine prima si preoccupano di stabilizzare il runtime e poi ci aggiungono tutte le altre feature aggiuntive ok per utilizzarlo nel codice vi faccio vedere se lo riesco a beccare subito subito no questo è un po' più complesso comunque no vabbè comunque comunque praticamente come si usano le Google API in JavaScript quindi se già le sapete usare praticamente è la stessa identica sintassi non cambia niente anche in questo caso c'è un esempio più avanzato che questo è la base quindi già da qui potete far tutto proprio al Google io hanno rilasciato un'altra successiva implementazione di questo Cloud Endpoints e praticamente quando voi avete la vostra console e prendete una delle applicazioni vi ricordate stamattina abbiamo visto questa qui ce n'è un'altra che è Mobile Backend App questa applicazione in realtà configura già il vostro Google App Engine e c'è già tutto il codice per un'applicazione Android funzionante che vi permette di scambiare dati generici schimales tra una serie di dispositivi e il server e venire notificati con delle push notifications su Android ogni volta che qualcuno aggiunge qualche elemento cioè fa il push di qualche nuovo oggetto ok di base qui nell'esempio ho implementato una chat però su questo video che poi vi allego sulle slide che è una sessione che hanno fatto al Google I.O. ci implementano un programma per dare proprio la notifica della propria posizione ok quindi avete già l'infrastruttura pronta lo scritto è pronto sia a livello back end che a livello front end quello che hanno fatto è stato semplicemente aggiungere una map view quelle nuove delle mappe nuove e dire ok quando acquisisco la posizione la sparo sul server e ogni volta che il server ha una posizione nuova e viene applicato una nuova posizione fai sapere a tutti i client registrati che c'è un nuovo elemento quindi il client poi va lo scarica e prende tutto quindi anche qui ovviamente ci sono un gran numero di convenzioni in questo codice però è uno scheletro già pronto da usare da usare dove sostanzialmente la maggior parte delle scelte architetturali di codice eccetera verrà fatta già Google per voi quindi potete partire da quello e realizzare la vostra app ok domande vai allora le librerie vengono generate solo in Java per Android per la parte web ci sono già le Google API quindi devi solo usare con la giusta sintassi per la parte iOS vengono esportate tutta una serie di cose che poi possono essere consumate da iOS ci sono almeno un paio di esempi su come fare io personalmente non conoscendo iOS non mi sono avventurato nello studio di queste cose qui però diciamo che il codice viene autogenerato per Android web c'è già tutto pronto perché c'è una libreria dietro iOS devi comunque fare qualcosa però anche lì sono restful API quindi se hai un'altra libreria eccetera lo puoi utilizzare ovunque queste sono solo comodità che vengono generate dal tool vai allora chiedi per gestire la cache dell'API in che senso? allora chiedeva per gestire la cache il caching devi farlo sia lato Google App Engine quindi non so questo una cosa che non vi ho detto stamattina perché ovviamente c'era poco tempo per parlare di tutti i topic è che su Google App Engine c'è tutto il data store quelle tre che abbiamo visto stamattina quindi data store cloud SQL e cloud storage e in più hai un servizio di memcache quindi senza bisogno cioè esatto ah la cache HTTP questa è una discussione che poi abbiamo avuto un po' dopo la chiacchierata io personalmente non so quanto però secondo me c'è un'implementazione proprio a livello di infrastruttura quindi tu non devi cioè non puoi andare a modificare niente però probabilmente ma c'è da verificarlo perché magari le cose cambiano nel tempo già l'infrastruttura di App Engine ti dà certi livelli di caching ok no non sono controllabili perché altrimenti che succede che andrebbe un po' impattare sulla scalabilità scalabilità del tutto perché magari prendo rialloco sposto o tiro su delle istanze diverse della macchina per gestire il carico quindi tutte queste cose poi vengono controllate in base a quello che l'infrastruttura decide di fare per meglio servirti in quel momento con il carico che hai un'altra domanda poi dobbiamo terminare non c'è ottimo bene e per queste Cloud Endpoints è tutto il mio consiglio è comunque guardate il Namekeeper ma soprattutto guardate questa sessione qui poi ecco sta nelle slide quindi poi daremo le slide dell'evento perché questa è veramente veramente interessante vi spiega anche come configurare le API aperte per tutti aperte soltanto per utenti autenticati quindi c'è un bel po' di materiale sopra grazie 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 grazie